Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi vi presento il mio nuovo portale per il learning dedicato ai tutorials che metterò in vendita nei prossimi mesi. Il mio portale si chiama Pro Audio Learning e si trova sul sito proaudiolearning.com ed è accessibile anche dal nostro sito jgrstudios.com. Una volta arrivati sul nostro portale possiamo immediatamente scorrere verso i corsi di Studio One che sto caricando. Al momento è disponibile soltanto il corso di Studio One Prime ma nelle prossime settimane troverete anche i corsi pronti per Studio One Artist Studio One Pro. Successivamente verranno introdotti degli altri corsi relativi ai tools e ai software che utilizzo in studio più spesso come ad esempio machine, il complete control, il father port, console one eccetera eccetera. Per procedere all'acquisto dei nostri corsi è semplice basta cliccare sulla piattaforma qui in alto oppure nei pulsanti che trovate con iscriviti. Cliccando si accede direttamente alla piattaforma di e-learning Pro Audio Learning da cui poi possiamo acquistare direttamente il corso. La prima cosa da fare è creare un account, quindi facciamo accedi, faremo crea un nuovo account, inseriamo nome e cognome, l'email, la password che inventeremo all'occasione, la città, paese da cui ci stiamo iscrivendo, un'altra volta l'email e una seconda volta nome e cognome. Poi clicchiamo su ho letto e accetto i termini del servizio e andiamo su registrati. In questo momento ci viene chiesto di verificare che noi non siamo un account fake o un internet bot che ruba dati per cui ci chiede in questo caso di identificare le scale. Identifichiamo le scale. Siamo ora all'interno del nostro account come vediamo e possiamo procedere all'acquisto di Studio One. Clicchiamo su Studio One Prime. In questa pagina possiamo visionare tutte le unit che sono a disposizione del corso di Studio One, aprirle e avere la possibilità di eseguire prima dell'acquisto alcune lezioni che ho lasciato in chiaro. Per cui anteprima gratuita accediamo direttamente all'anteprima gratuita di alcune lezioni contenute nel corso. Questo è il player principale. Ci viene mostrato appunto il nostro player e la presentazione del corso di Studio One. Qui a sinistra troviamo poi tutte le unit con le lezioni. Quindi abbiamo Unit One, la 2 con 10 lezioni, la 3 e la 4. Oltre all'ultima che è la Unit 5 sono degli extra contenuti come lezioni aggiuntive per l'aiuto della configurazione su Windows 10 o Mac OS X. La lezione di Studio One Prime che avete già visto gratuitamente di 43 minuti sul mio canale YouTube. L'ottimizzazione del nostro pc quindi quale scheda magari usb utilizzare per collegare la scheda audio e avere meno problemi possibile e una lezione sul Fat Channel XT. All'interno del corso troviamo le lezioni che ci introducono a Studio One Prime quindi come creare un account presonus quindi partendo da zero e quindi poterlo scaricare gratuitamente. I collegamenti audio da effettuare tra Studio One e la nostra scheda audio e l'esplorazione dell'interfaccia di Studio One Prime quindi un primo approccio alla Do. Avremo poi la possibilità nella lezione successiva di aprire la nostra prima song ed esplorare le funzioni di base. Analizzeremo poi l'inspector che è la parte sinistra dell'interfaccia e infine il presonus hub che ci consente di rimanere in contatto con presonus, aggiornare l'applicazione o acquistare degli add-on. Nella Unit 2 entriamo già nel vivo del nostro corso. Iniziamo creando la nostra prima song di Studio One Prime, poi creeremo una seconda song. In questa occasione utilizziamo i loop contenuti nella versione Prime di Studio One quindi tutti potremo creare la stessa song e in questo caso una song trap style. Poi procederemo al nostro primo arrangiamento quindi a fare riferimento all'arranger track, alla marker track. Studieremo i MIDI quindi come importare i MIDI file, associarli agli strumenti e utilizzare poi gli instruments interni, in questo caso Presence XT che è contenuto all'interno di Studio One Prime e vedremo come aggiungere altri suoni al Presence XT, sempre in maniera gratuita. Creeremo una prima registrazione MIDI di batteria e basso e poi ci occuperemo della gestione della latenza e del motore audio prima di arrivare alla vera e propria registrazione audio con Studio One Prime. Troveremo un tutorial sul save, questo anche come vediamo è in chiaro quindi possiamo vederlo gratuitamente prima di acquistare il corso. Torniamo sulla gestione della latenza, come vediamo le lezioni che ovviamente non sono state acquistate non possono essere viste e iniziamo poi a creare la nostra prima song di Studio One. Alla fine della unit 2 trovate le song complete di file che ho utilizzato all'inizio della unit, quindi troviamo la possibilità di scaricare direttamente la song e provarla sul nostro computer. Nella unit 3 ci addentriamo di più all'interno dell'arrangiamento MIDI, questa volta importiamo un MIDI file e lo associamo a tutti i suoni di Presence migliorando al massimo la resa sonora. Scopriremo come utilizzare i loop e metterli in sync con il time stretch, analizzeremo la trasformazione delle tracce MIDI in tracce audio per poi procedere al mix vero e proprio della song. Infatti poi entriamo nel discorso delle tecniche di mix, analizzeremo il gain stage e il mix, impareremo le prime scorciatoie da tastiera e esploreremo la track note e poi iniziamo a registrare con Studio One Prime, in questo caso abbiamo già diverse parti di 10 minuti circa per imparare la registrazione e la configurazione dei canali. Infine troviamo qui un'esercitazione su un brano di Barbarato Disco dove potremo iniziare ad imparare a comporre una voce che abbiamo registrato da diverse take. Infine una registrazione dei dispositivi MIDI esterni come sintetizzatori all'interno di Studio One Prime. Vedremo come inviare il MIDI fuori e registrare l'audio in ingresso. Sempre al termine della lezione troviamo i file relativi alle song che abbiamo menzionato nella unit. La unit 4 infine ci mostra come utilizzare gli effetti contenuti Studio One Prime. Abbiamo gli effetti di modulazione, il delay e il riverbero, gli effetti di vmeter e tuner, come utilizzarli al meglio, il nostro primo mix audio semi professionale attraverso l'uso di una song di Gianfranco Mauto questa volta e quindi analizzeremo il gain stage, l'utilizzo della channel strip, l'utilizzo degli effetti in send nei canali e impareremo le basi dell'automazione che ci servono per fare il mix vero e proprio. Infine analizziamo tutte le preferenze di Studio One Prime, quindi come configurarlo al massimo dopo aver familiarizzato con l'applicazione e come creare dei template adatti al nostro stile e quindi poter poi iniziare a lavorare velocemente sempre con Studio One Prime. Infine troviamo i file della canzone di Gianfranco da utilizzare per fare il nostro mix e quindi i nostri esercizi. Se la presentazione vi è piaciuta, avete intenzione di acquistare Studio One Prime, procediamo all'acquisto. Clicchiamo su acquista ora e verremo catapultati nella pagina di acquisto. Il pagamento avviene attraverso Paypal. Ho scelto un prezzo molto basso per 40 lezioni per dare la possibilità a tutti quanti gli utenti di Studio One Prime di utilizzare l'applicazione al meglio, divertirsi a casa e iniziare a registrare i propri lavori e le proprie canzoni senza dover spendere nulla per l'applicazione. L'acquisto avviene in maniera super sicura attraverso il sito di Paypal e poi vi mette in contatto diretto con Pro Audio Learning, quindi con me, dove ci ritroveremo su un forum apposito per discutere le lezioni del corso di Studio One e per aggiungerne altre durante il corso dell'anno. Troverete infatti tantissime altre sorprese che saranno disponibili gratuitamente per chi ha acquistato il corso. Tutti i corsi di Pro Audio Learning, quindi i corsi di Studio One in questo caso danno diritto e accesso al programma Educational di MidiMusic in collaborazione appunto con MidiMusic e Beppe Bornaghi responsabile del MidiMusic Educational. Avremo quindi la possibilità di scegliere altri tipi di corsi come partecipare ai corsi o ai seminari o alle classroom. La possibilità molto importante di poter acquistare i software che noi utilizziamo ad un prezzo eccezionale, quindi un prezzo super scontato dedicato agli allievi e agli insegnanti delle scuole. Nelle prossime settimane verranno pubblicati anche i corsi di Studio One Artist e Studio One Pro, quindi rimanete sintonizzati, continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale per lasciare poi un vostro commento sotto. Per il momento è tutto, ciao a presto! Ciao a presto!